Oltre 26 milioni e mezzo tra disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, sono stati sequestrati ad alcuni vertici di strada dei parchi. Sei soggetti denunciati all'apice della concessionaria autostradale e di altre due società collegate. Gli inquirenti parlano di evidente degrado delle pile dei viadotti della A24, in particolare quelli del Teramano. Nel dettaglio, l'autostrada presenta ammaloramento del calcestruzzo, danneggiamento delle canaline e delle acque, grave stato di ossidazione dei ferri delle armature. E' questo ciò che è stato verificato a seguito della caduta del Ponte Morandi di Genova. Dalle indagini che dal 2018 ad oggi hanno interessato i sette viadotti del Teramano, è emersa la totale inadempienza, fin dal 2009, degli obblighi di manutenzione. Strada dei parchi non ha mai provveduto agli interventi strutturali, a cui era obbligata per atto concessorio. La manutenzione ordinaria sulle opere d'arte di una delle autostrade con il pedaggio più costoso d'Italia è stata effettuata solo a partire dal 2018, ed utilizzando esclusivamente soldi pubblici, così come per la manutenzione straordinaria del viadotto Temperino, che doveva essere fatta entro il 2013, ma avvenuta solo nel 2018, ed anche in questo caso con soldi pubblici. Si tratta di attentato colposo al trasporto pubblico, perché, comunicano le forze dell'ordine, le prolungate omissioni hanno messo in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti. Per i reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture sono stati confiscati circa 5 milioni. Ma non è finita qui. Gli inquirenti parlano anche di plurime condotte di abuso d'ufficio. La legge infatti consente alle società che hanno la concessione autostradale di affidare lavori ad imprese collegate nella misura massima del 60%. La società del gruppo Toto però ha sforato questo tetto già dal 2015 e ha continuato ad affidare lavori alla Toto SPA Costruzioni Generali, che ovviamente è sempre del gruppo Toto. E la violazione del codice degli appalti è avvenuta nonostante le numerose diffide da parte del Ministero, ma dopo tutto non è bastata nemmeno la tragedia di Genova a riconsiderare le concessioni autostradali. Per tali condotte illecite vi è stato il sequestro diretto nei confronti di tre degli indagati e delle società collegate alla concessionaria per circa 21 milioni di euro.